Maestro Giuseppe Cascella, pittore, scrittore, poeta, ma sono tanti ruoli del maestro stasera In quale veste in particolare? Questa sera qua in veste di attore, sto qua per la beneficenza, non potevo mancare come tutti gli anni che io partecio a molte onulus, specialmente oncologiche per questi bambini Gesù che io ci tengo tanto a dire che quasi tutti dovrebbero fare il loro dovere per aiutare questi bambini E io qua sto in veste appunto per la beneficenza, questa sera, come ho fatto sempre, lo farò anche questa sera Maestro, lei è universalmente conosciuto e in particolare sono noti le opere di tema religioso Quanto ha influito sulle sue opere il tema fede? Allora, ci sono molte persone che ormai, eglesiastiche, nel loro gergo c'è molta gelosia Sì, ho fatto delle grandi opere, con fede però, donato, ma non vendute a vari enti eglesiastici importanti in Italia Maestro, un'ultima cosa, in occasioni come questa, che cosa si sente di dire direttamente a un video ascoltatore che in questo momento ci segue? Dico, passate la mano per la coscienza, aiutate i più poveri e quelli che hanno bisogno Perché la cosa più bella di dare, donare, se donate avete Allora, ecco, le sofferenze ne sono tante in questo mondo che ci circonda Io cerco soltanto di divulgare questa vera parola, amore Grazie A voi Grazie 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 Grazie